Buongiorno a tutti, notiziario del Tg Seghizi, programmazione di venerdì 16 luglio. Alle ore 10 nel parco del municipio a Gorizia incontro dei cori con i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Alle ore 13 in Auditorium della Cultura Friulana in Via Roma 23 si svolgerà il 49esimo concorso internazionale di canto corale Seghizi. In particolar modo si esibiranno la categoria 2B e la categoria 2A rispettivamente, musica leggera, jazz e blues e musica popolare. In serata, ottavo festival Seghizi in regione. A Cervignano, nel teatro Pasolini alle ore 20.30 con il coro The Blossom Voice dall'Italia. A Coseano, nella chiesa di San Giacomo alle ore 21, il coro bulgaro Slavianska Beseda Choir. A Moraro, nel sagrato antistante la chiesa, alle ore 21 si esibiranno i polacchi Varsa Boys Choir. A Pravis Domini, nella sala parrocchiale, alle ore 21 il coro giapponese Seisen High School Choir. A Tricesimo, al teatro Garzoni, alle ore 20.45 invece si esibirà il coro italiano Santa Lene de Tula. E per concludere, a Trieste, nell'aula magna della Facoltà di Scienze della Formazione in Via Tigor, si esibirà alle ore 21 il coro filippino della SA University Corale. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo numerosi! Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo numerosi!